Le persone da evitare per avere una vita migliore e soprattutto un business migliore. Io non capisco come in giro ci siano tante persone con delle caratteristiche così negative. Intanto eliminiamo tutti quelli che si lamentano sempre, quindi i lamentosi. Cioè io non voglio frequentare le persone che è sempre colpa di qualcun altro, si lamentano sempre perché comunque sono in qualche modo negativi. Quindi nella sfera di tutte le persone negative ci sono anche loro. Da evitare assolutamente tutti gli invidiosi, cioè tutte quelle persone che comunque godono delle disgrazie degli altri e magari se qualcuno ottiene dei risultati è invidioso. E vi garantisco che nel web ce ne sono tantissimi e veramente mi fanno anche un po' pena, ma sinceramente un po' tenerezza perché cazzo è una massa di sfigati incredibili. Evitare poi chi parla male degli altri. Ovviamente io se qualcuno sento che parla male di una persona, un pochino, cioè mi dà fastidio e comunque mi si accendono delle lampadine perché è una cosa brutta. Se non pensi positivamente verso un'altra persona, tienetelo per te magari perché fai più bella figura. Comunque sicuramente è una cosa non bella. Un'altra delle categorie che proprio non sopporto sono i falsi. Quelli che in qualche modo comunque non sono coerenti, sono i falsi. Ce ne sono tanti e ovviamente col tempo ho imparato piano piano a percepirli a pelle, però mi stanno sui maroni. Quindi ragazzi se volete vivere una vita tranquilla, evitate tutte queste categorie di persone che sono inutili e avendole vicino secondo me possono essere soltanto delle teri per voi. Quindi evitatele.